ciao questo è il solito video sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono visto di questo film si chiama the animal kingdom che è un film che risulta del 2023 però è uscito qua in italia giovedì 13 giugno di quest'anno del 2024 che è stato distribuito da questa wonder picture che visto che adesso l'hanno messo sulle solite piattaforme lo sono riuscito ad andarlo a recuperarlo nel guardare che come firme due a confronto ad altri due a un attimino di più che come che la sua durata di questo film e di quelle due due ore e dieci qui 130 minuti che è solito come paese di produzione francese che come genere e avventura che a chi magari piace questi film di avventura sicuramente magari ho visto che essendo ma anche se è un film francese però è fatto anche bene che merita che a chi piace magari questi film di avventura ma è uno di quei film da andarsi a recuperare nel guardare che ha che ha vinto anche molti premi come firma che la regia di questo film e di questo thomas che illy che più che altro magari come come film e maria oltre maria a toccarli maria il genere e magari avventura può essere un po fantascienza però merita come film che parla più che altro magari di francese 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 che ha appena portato suo figlio e emily a a una visita medica che poi poi è bloccato come si dice poi è bloccato nel traffico quando un furgone con a bordo delle misteriose creatore deraglia che rimane bloccato nel traffico per colpa mare di questo furgone che lì c'è anche la moglie di francese che come molti altri individui ha cominciato a trasformarsi in animale che l'uomo e ragazzo si mettono così alla ricerca e sono e sono aiutati da una poliziotta che nel frattempo anche emily appare uno dei primi segni della di questa mutazione che sicuramente morai come tipo di film deve piacere con queste morai essendo morai un po di fantascienza che che più che altro morai di queste persone che si mutano in animali come film è un tipo di film che deve piacere che più che altro è una avventura concentrata ma più che altro tra padre e figlio in questo mondo in cui alcuni umani hanno iniziato a mutare in altre specie animali che ma è la trama mara in sé proprio del film era questa qua in questo mondo colpito da questa ondata di mutazioni che stanno gradualmente trasformando alcuni esseri umani in animali che franco francois adesso non so bene come la pronuncia del nome però fa morai fa tutto il possibile per salvare e sua moglie colpita da questa misteriosa condizione mentre alcune creature scompaiono in una foresta vicina che è sempre lui parte con il figlio sedicente emily per una ricerca che cambierà le loro vite per sempre che anche se risulta del 2023 come ho detto prima qua in italia è uscito è uscito nel giugno di quest'anno del 2024 che come si dice che magari nel frattempo logicamente sono riusciti i primi trailer del film che magari ve li come al solito tutte le informazioni di morai sul film e tra tra il cast video trailer e tutte le informazioni che riesco a trovare sul film e sul film ve li metto morai sotto al sotto in descrizione che più che altro è a concentrata in questa avventura tra padre e figlio con queste magari mutazioni di persone che con queste mutazioni predenitare magari di come si dice di questi esseri magari con le sembianze magari animali e che la trama in sé proprio del film e e a questa qua con con questi esseri umani e che iniziano a mutarsi in altre specie e animali e che sicuramente magari e essendo magari questa avventura tra padre e figlio ecco ecco con questa trama di mutazioni magari come film come stavo dicendo eh deve magari come trama dei piacere dei piacere poi nel complesso essendo magari un film eh che due a quelle due ore e dieci eh centoventotto minuti quasi di film e magari ne complesso anche se non è il mio genere ho visto che eh ci poteva magari anche stare essendo anche francese e come anche come si svolge la trama nel film e anche come sono girate le trame e è fatto anche bene come eh come film eh che anche dalle recensioni che eh eh sono riuscito a trovare eh parlavano eh eh hanno parlato sempre bene di eh di questo film e dalle recensioni che ho trovato eh eh e niente che quello che potevo dire su questo film l'ho già detto al massimo ho trovato tutto sotto in descrizione eh al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao